4.000 metri quadrati, una radiologia territoriale, servizi di assistenza specialistica e di analisi e una residenza sanitaria assistenziale. Il nuovo distretto sanitario di base di Roseto degli Abruzzi che costerà 4 milioni di euro e sorgerà nella zona sud della città a Piazza Marco Polo in un'area pubblica adiacente al Palazzetto dello Sport vicino alla ferrovia in grado dunque di intercettare tutto il bacino di utenza della vallata del Vomano e di Pineto. Sarà un vero e proprio distretto sanitario della costa spiega il sindaco di Roseto Sabatino di Girolamo. Stretto sanitario che è importante perché ha giurisdizione su un'ampia fascia di territorio e abbiamo infatti messo a disposizione un'area molto ampia per far sì che possa accogliere molti ma molti servizi. Roseto ha un difetto, quello di avere ad esempio il medico di guardia in un posto, la Croce Rossi in un altro posto, il 118 in un altro posto, il consultorio, quindi c'è purtroppo una diaspora delle strutture sanitarie. Con questo distretto sanitario di base noi vogliamo riunire tutte le strutture sanitarie e tutti i servizi sanitari in un unico complesso. Questa collaborazione con il comune di Roseto ci permette innanzitutto di risolvere un problema e c'è la querel che c'era sulla proprietà del vecchio distretto, una struttura che dobbiamo lasciare perché è inadeguata, inadeguata sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista della possibilità di offerta di sanità ai cittadini per andare a creare insieme all'amministrazione comunale un piccolo polo sanitario. Però non deve essere considerato un ospedale perché l'ospedale è un luogo di ricordo per acuti. La maggior parte della popolazione, i veri bisogni, i bisogni anche dell'immediato futuro sono per una popolazione più anziana, per una popolazione che ha malattie di carattere cronico, gli acuti sono sempre di meno. Bisogna sempre di più investire sul territorio, sulle cronicità, sulle fragilità, sulle non autosufficienze che sono fabbisogni sanitari dei cittadini. Parliamo di anziani soli, di persone diversamente abili, di tutte quelle cronicità dal diabete a tanto altro che aggrediscono le nostre comunità, le nostre famiglie anche perché l'età anagrafica si è alzata, si vive di più e quindi si soffre di più di cronicità o di fragilità.